Ricerche in atto nella zona di Popoli, ma non solo da parte di Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco e volontari di protezione civile per un commercialista in pensione, Vincenzo Perruzza, di 74 anni, di cui i familiari hanno denunciato la scomparsa. Nel primo pomeriggio la sua auto è stata ritrovata lungo il fiume Aterno, fuori dal centro abitato di Popoli, regolarmente parcheggiata e chiusa a chiave. Secondo la denuncia, l'uomo sarebbe uscito di casa questa mattina a bordo della sua auto, senza farvi più rientro. Impegnato nel ricerche anche un elicottero e una squadra fluviale per il rassettamento del corso d'acqua. I controlli riprenderanno nella giornata di domani. I carabinieri della Compagnia di Popoli, coordinati da Capitano Antonio Di Cristofaro, stanno cercando il lungo e il largo. Chiediamo a chiunque abbia visto l'auto, abbia visto lui personalmente, di contattarmi immediatamente, raccomando il figlio dell'anziano su Facebook. Il numero di telefono cellulare da contattare messo a disposizione della famiglia è 348-7389-256, oppure ci si potrà rivolgere direttamente al 112 il numero di emergenza dei carabinieri. In paese, in queste ore, non si parla d'altro. In paese, in queste ore, non si parla d'altro. In paese, in queste ore, non si parla d'altro.